Buona giornata a tutti, ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori. Siete su Fano TV, sul canale 17, dove al mattino alle 7.30 iniziamo la prima diretta, la prima trasmissione che è dedicata alla lettura dei quotidiani, ai titoli, naturalmente delle notizie più importanti in evidenza sui tre quotidiani che hanno gli inserti della provincia di Pesero e Urbino, ovvero il Carlino, il Corriere ed il Messaggero. Uno sguardo al Santo del Giorno, al Tempo, oggi è San Sonofrio di Gerusalemme, allora parliamo di un santo che è nato a Damasco nel 550, il sole è sorto alle 6.26, tramonterà le 18.10. Allora, questo è il nostro sito internet che in apertura ha pubblicato già da ieri sera l'allerta per criticità idrogeologica per la Regione Marche, perché sta piovendo. Se riusciamo, non so, ad andare con la telecamera, quella del Pincio, eccola qua. Questa è la situazione indiretta della nostra telecamera esterna. Vedete, il traffico è ancora abbastanza scorrevole, siamo al Pincio di Fano, ma vedete le nuvole sono molto basse, tra l'altro non si vede nemmeno Montegiove con l'eremo, perché appunto le nuvole sono basse. C'è tanta pioggia prevista per la giornata di oggi. Torniamo sul nostro sito internet e andiamo a vedere la situazione in tempo reale sulla pagina dell'osservatorio meteorologico di Fano TV, accessibile da occhialanotizia.it, la temperatura di 8 gradi e mezzo, chiaramente stiamo parlando della temperatura delle 7 e mezzo del mattino perché ci segue in diretta e vedete già sono caduti 9-10 mm di pioggia dalla nottata, dalla mezzanotte, perché questo registra le 24 ore. E questa è la fotografia di una parte della città di Fano che appunto mostra come le nuvole siano belle cariche di pioggia. Mentre, ecco, se vedete, andiamo sulla pagina della protezione civile delle Marche, eccola qua, per leggere quelle che sono le previsioni. Intanto la neve, la neve che è benedetta da parte degli, vedremo tra poco, dai gestori degli impianti sciistici del Nerone, del Carpegna, del Catria, perché chiaramente quest'anno è andata maluccio, non c'è stata neve, la sta facendo adesso che siamo all'11 di marzo, però avremo oggi precipitazioni diffuse a prevalente carattere di rovescio, in particolare al sud della regione. I fenomeni si attenueranno nel pomeriggio, nel settore invece centro-settentrionale, le temperature sono in diminuzione. Poi, inizialmente avremo invece domani, sabato, 12 di marzo, ancora nuvole basse, con addensamenti nelle zone interne dell'Appennino, schiarite nel corso della giornata di domani, invece sulla costa. Avremo ancora però piovaschi sparsi nel settore meridionale, che andranno ad esaurirsi nelle prime ore della mattinata. Avremo ancora isolati piovaschi sul settore appenninico in completo esaurimento nel corso del primo pomeriggio. Le temperature minime sono stazionari e quelle massime invece sono in aumento. Per la giornata di domenica è un po' così così, bisogna vedere se poi questa perturbazione che colpirà in particolare l'Appennino arriverà fino alla costa o cosa arriverà verso la costa. Comunque ci sono deboli piovaschi ed isolati rovesci sulle zone appenniniche. Il cielo sarà quindi parzialmente nuvoloso con nuvole medio-alte stratificate. Per quanto riguarda lunedì, martedì, insomma all'inizio della prossima settimana avremo ancora condizioni di tempo instabile, anche se debolmente instabile, con un peggioramento da metà settimana per un impulso che arriverà freddo dai Balcani. Quindi non si escludono sorprese. Cominciamo a leggere i giornali. Questa è la prima pagina del Carlino di Pesaro. Ecco la qua, la foto oggi è per l'uomo dei ghiacci. È un professore, il professor Galeotti, da Urbino, che lancia l'allarme. Rischio anidride per la calotta antartica. Il mare potrebbe salire di oltre 60 metri. Poi, tra le notizie che troverete sul Carlino di questa mattina, anche l'affondo della procura. La vecchia banca Marche a novembre andava già liquidata perché non aveva più soldi. Ma dalla pagina di Fano c'è il racconto dell'ultimo saluto a Francesco Paterna, il 43enne militare in servizio all'aeronautica di Rimini, che abitava a Fenile, un quartiere di Fano, che è morto improvvisamente. Ieri tanta gente nella parrocchia, nella chiesa dei Santi Pietro e Andrea a Fenile, per l'ultimo saluto. Il tuo cuore è così grande, non ha retto. Chiesa di Fenile gremita per l'addio al militare, era in partenza per l'Afghanistan. I vicini di casa raccontano che era un uomo che si faceva davvero voler bene, veniva a salutarci prima di partire in missione. Questa è la notizia sul Carlino. E sotto invece la lettera che padre Mandolini del Beato Sante, lo vedete in questa fotografia, ha scritto al vice sindaco di Fano Stefano Marcheggiani, che è anche l'assessore alla cultura. E cosa scrive in questa lettera? Intanto scrive un po' di problemini che c'è nella chiesa di Santa Maria Nuova. Però dice anche come mai una statua che appunto riguarda il Beato Sante, che tra l'altro ha anche scarsa rilevanza artistica e che è stata scolpita per devozione popolare e non per soggiornare in una pinacoteca, sia ancora in restauro da tre anni, quando basterebbe invece un mese. Quindi insomma se la chiedono indietro. L'opera fu concessa nel 2014 dal Comune alla Fondazione per un'esposizione, ma poi non è più tornata. E a chiedere chiarimenti anche i Cinque Stelle di Fano con Ada Romicioli e Marta Ruggeri, che hanno preparato e presentato una interrogazione al sindaco di Fano. Poi qualcuno ieri durante il telegiornale avrà storto il naso alla notizia che arriverà il bollino verde, altra gabella da pagare, 14 euro per avere il famoso bollino sulla caldaia. Ebbene, 14 euro, oltre al prezzo poi naturalmente dell'intervento, cioè del manutentore, questo lo dovrete scegliere voi, che occorrerà pagare per far la pulizia della caldaia, per far sì che sia tutta in regola e in sicurezza. Aset Holding controllerà ogni 4 anni, pronta la gabella da 14 euro. Dicevo, i cittadini che risiedono nel Comune di Fano avranno un tempo, un anno di tempo per mettersi in regola. Il termine di scadenza è fissato al 30 giugno del prossimo anno, del 2017. Entro questa data, il 30 giugno del 2017, chiunque è responsabile di un impianto termico, quindi parliamo di privati cittadini e imprese, dovrà appunto inviare ad Aset Holding il rapporto di controllo sull'efficienza energetica della caldaia. Perché altrimenti ci sono delle multe, tra l'altro anche, insomma, piuttosto importante, da 500 euro, se non ricordo male, fino a qualche migliaio di euro. Quindi, insomma, bisogna mettersi in regola. Sulla pagina sempre di Fano del resto del Carlino, questa mattina si parla anche della missione americana della Colle Marathon, che è una prestigiosa maratona, ormai sta avendo ogni anno sempre più successo, sancito un gemellaggio, e il fanese Quattrini sfiora l'oro alla maratona di Chattanuga. Riccardo Quattrini, che è nel riquadro primo classificato, mentre qua ci sono i rappresentanti appunto del Colle Marathon. Si scaldano intanto i motori, a due mesi dalla partenza sono già 600 gli iscritti, nove vengono dagli Stati Uniti. Parlando sempre di sport, si cambia alla presidenza del CSI, che è il centro sportivo italiano. In 7 mila hanno eletto Marco Pagnetti, di 33 anni, fanese, che fin da giovanissimo è impegnato in importanti ruoli dirigenziali nel comitato, lo hanno eletto presidente al posto di Francesco Iacucci, il quale ha gestito il CSI provinciale e ha diretto il CSI provinciale per 19 anni di seguito. Insomma, un bel record. La passione per gli animali di Silvia Gadani, per gli amici è nota. Silvia Gadani è una ragazza che è di 41 anni, che il primo aprile del 2015, a soli 41 anni ha scelto di lasciare questa terra. Silvia riposerà con i suoi animali, le sue ceneri sono state disperse su una collina, su un cespuglio nell'oasi del tramonto, per questa donna da sempre impegnata a favore degli animali, è stata anche presidente dell'EMPA, l'Enternazionale Protezioni Animali. E qui c'è la sua storia, con il racconto degli amici più cari. A Pesaro, invece, i morsi della crisi, sono state vendute le torri di Mulazzani. Mulazzani è uno storico costruttore, pesarese, la società le acquista per 8 milioni queste torri, alla sede da un noto commercialista, all'asta 84 appartamenti. Dal prezzo iniziale, che era di 10 milioni di euro, si è arrivati ad uno sconto di 2 milioni. Nel dicembre 2013, è stato dichiarato il fallimento della storica ditta, e dire appunto, che è la storica ditta Mulazzani di Pesaro. Cambiamo giornale adesso, andiamo a vedere, a leggere il Corriere Adriatico. In evidenza, sulla pagina di Fano, la questione dell'ospedale unico. Fosso sei ore, il dibattito è urgente in Consiglio. Il centrodestra chiede a Rosetta Fulvi, che è la Presidente del Consiglio Comunale di Fano, l'inserimento di una interpellanza e una interrogazione nella seduta di lunedì. Massimo Seri, il sindaco, sa che sull'ospedale si gioca il futuro, appunto, il futuro di sindaco, mascherina l'assessore, e quella delibera è un vulnus democratico. Quindi ancora si discute sulla questione di Fosso sei ore, che è entrata come località, come ricorderete, nella delibera di giunta, anche se non verrà costruito nessun ospedale a Fosso sei ore, quindi state tranquilli, non si farà. Allora, andiamo invece adesso sul Corriere Adriatico. Nevica sul Catri, aprono gli impianti, nel fine settimana si potrà sciare, la coltre bianca arriva fino a 50 centimetri, anche due ciaspolate. Abbiamo già battuto da mercoledì le piste e preparato il parco giochi, apriremo anche il rifugio. E chissà che tutta questa pioggia che noi abbiamo qui sulla costa in collina non sia lassù neve. anche perché qua sono 8 gradi e mezzo, 9 gradi, 70 mila tanto, sui mille metri dovremmo essere a 0 gradi, quindi potrebbe essere neve, ma tutto può essere, vedremo insomma. Poi, Pesaro Urbino, sempre dal Corriere Adriatico, mentre a Fermignano, Cancellieri, l'attuale sindaco, sogna il terzo mandato, fallisce il pressing di Morani e Mezzolani e i democratici attaccano il sindaco. Ma, dicevo, mentre Cancellieri sogna il terzo mandato, a Fossombrone, i socialisti si arrabbiano con il Partito Democratico e dicono dal PD nessuna forma di rispetto perché hanno annunciato il loro candidato, che è appunto Chiarabilli, il vice sindaco, l'attuale vice sindaco, senza dirci niente, insomma, l'annuncio doveva essere perlomeno condiviso tutti insieme, non con queste fughe in avanti così solitarie. Poi, sempre dal, andiamo a vedere l'altra pagina del Corriere Adriatico, si parla di vongole, con l'intervista al professor Corrado Piccinetti del Laboratorio di Biologia Marina di Fano, che rassicura sui vantaggi della riduzione della taglia pescabile delle vongole da 25 mm a 22 mm, stiamo parlando di 3 mm in meno, che però fa la differenza in termini di multe, di legalità e quant'altro e dà un po' di respiro anche ai vongolari, naturalmente, a chi con le vongole ci vive, ci deve vivere, ci deve campare. La piccola taglia, dice Piccinetti, è utile, ribadisce dunque i vantaggi per fauna e flora, oltre che per la marineria. Il Laboratorio di Biologia Marina ha contribuito allo studio finalizzato a ridurre le dimensioni del pescato e su questi millimetri insomma ci sono anche belle multe salate da parte della capitaneria. Fusione, i 5 stelle vanno dal prefetto e questo è il titolo del messaggero di Pesaro. Contestato il consiglio odierno sulla fusione, il regolamento non è stato rispettato, la seduta dunque per i 5 stelle è da annullare, nell'arco di 24 ore la maratona consigliare coinvolgerà Pesaro, Monbaroccio, Urbino e Tavoleto. A centro pagina invece guardate questa è la porcilaia abusiva che è stata scoperta ieri dal corpo forestale è stato sequestrato un allevamento sul San Bartolo un allevamento lager 73 suini infatti vivevano all'interno di un recinto in condizioni bestiali virgolettato chiaramente è il caso di sottolineare tra liquami e fango. Poi l'altra pagina che fine faranno i dipendenti delle province alla fine ad Ancona andranno solo in 60 la CGL dice però così non va gli uffici caccia pesca urbanistica antisismica e formazione i dipendenti restano dove sono oggi la delibera di Cesetti ancora dal messaggero eccolo qua i social ultima frontiera per difendersi dai ladri per i controlli con i controlli fai da te sapete in questi giorni anzi in molte città d'Italia si stanno organizzando questi cittadini privati cittadini organizzandosi in gruppi su Whatsapp che è quella famosa applicazione di messaggistica istantanea che dà la possibilità di rimanere in contatto con gruppi anche piuttosto numerosi si formano più che altro ecco nei quartieri nelle vie e sono tutti sul chi va là e quando c'è qualcosa che di sospetto si scambiano queste informazioni e quindi l'informazione arriva in tempo reale a tutti quelli che sono iscritti a quel gruppo in quella determinata zona in quella determinata via funziona un po' così se la canta ne sono da solo però ecco l'importante è poi che chi deve intervenire in questi casi sia poi informato altrettanto in tempo reale perché poi è inutile scambiarsi le informazioni da soli tra persone e non con le forze dell'ordine però comunque è già qualcosa è già qualcosa mille iscritti in soli tre giorni anche per esempio per questo gruppo che si chiama Sicurezza Urbana su Facebook invece l'idea di un praticante avvocato è già un successo raccogliamo segnalazioni in tempo reale vogliamo aiutare le forze dell'ordine però anche qui ripeto ci sono i pro e i contro ma non sono io che devo dirlo perché raccogliamo le segnalazioni in tempo reale ma quando 24 ore su 24 dalle 8 della mattina alle 9 di sera oppure solo la notte a Natale cioè le forze dell'ordine sono H24 365 giorni all'anno quindi attenzione non confondiamo i ruoli perché poi è un problema vanno a riaprire invece guardate vanno a riaprire l'albergo l'hotel Leonardo Da Vinci in Viale Trieste a Pesaro e scoprono che dentro c'era della gente chiaramente molti alberghi d'inverno sono chiusi adesso stanno riaprendo un po' tutti quanti per le pulizie per rimettere in ordine per l'avvio della nuova stagione questo per esempio riaprirà il 17 marzo e che cosa è successo? Che le donne delle pulizie hanno trovato donne delle pulizie insomma le persone addette alle pulizie cosa hanno trovato? asciugamani utilizzati le docce utilizzate addirittura hanno trovato i resti delle colazioni come biscotti marmellati insomma la situazione è andata avanti raccontano per più di una settimana siamo in chiusura l'altra pagina di peso urbino del messaggero la lettera la lettera che Igli il re ho confesso dell'omicidio di Ismaele Lulli parliamo dell'omicidio di Sant'Angelo Invado la lettera che ha consegnato alla mamma alla mamma di Ismaele la mamma di Isma però la mamma non ha aperto la lettera non se l'è sentita non se l'è sentita non ha voluto leggere le parole di Iglimeta però ha detto lo farà probabilmente lo farà insieme all'avvocato e dunque la leggeranno insieme non sappiamo se lo scritto abbia uno scopo difensivo oppure sia sincero e quindi vuol chiedere davvero perdono aspetteremo comunque il momento giusto poi invece sempre sulla pagina del messaggero si parla anche della voragine non dimenticatevi che c'è una strada interrotta a Orciano lavoraggine infinita che divide Orciano di Pesaro opposizione in pressing dal sindaco sempre più critica la situazione della viabilità insieme ai disagi per i residenti e presto verrà organizzata una assemblea Mina diceva parole 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 ma insomma qui di fatti se ne vedono pochi se ne sento vedono pochi sì di fatti ma questo l'avevamo già previsto il giorno dopo il giorno dopo proprio lì stando sul posto qui ci vorranno anni l'ultima pagina del messaggero eccola qui anche affano scattalera del bollino verde siamo in ritardo allora accertamenti sulle caldaie ecco come funzioneranno quindi anche qua sul messaggero avrete la possibilità di leggere tutti i particolari con i riferimenti i numeri di telefono poi altre notizie riguardano la Dini Salvalai la piscina Sant'Orso bando per la futura gestione le offerte scadono il 24 marzo non c'è altro spazio e né tempo grazie per aver seguito Occhio ai giornali appuntamento per domani mattina alle 7.30 arrivederci grazie per aver guardato